La fabbosa catena chiamata John Lewis ha informato che andrà a chiudere in maniera temporanea, quindi temporaneamente, i suoi negozi dislocati per il nostro amato pianeta Terra. Una scelta coraggiosa questa, per quale motivo, per quale ragione è presto detta, per andare a fronteggiare l'emergenza da coronavirus, il Covid-19. Una scelta dunque importante, una scelta dunque fondamentale per andare a risolvere e per andare dunque a cercare di porre rimedio, porre fine a una situazione di immensa drammaticità che vede come situazione, che vede come protagonista proprio questa catena commerciale John Lewis ma anche altre. Pensate che da 155 anni di tempo, che non ha mai chiuso, questa è la prima volta assoluta. Chiude a livello temporaneo, temporaneamente. Grazie a tutti, D'Aleandro, il narratore italiano di YouTube, iscrivetevi, commentate, al prossimo video, una buona serata buona. Grazie a tutti.